Vice sindaco Domenico Marrazzo con delega anche alle scuole oltre 740.000 euro stanziati per la manutenzione del liceo di Ischia. Sì, abbiamo sottoscritto il contratto con la ditta giudicataria per 750.000 euro di lavori. Sono lavori di straordinaria manutenzione, quindi a partire dall'impermeabilizzazione dell'edificio scolastico, rifacimento delle facciate, realizzazione dell'impianto di riscaldamento, rifacimento della palestra, realizzazione di un campetto sportivo all'esterno e sostituzione degli infissi. Quindi questo dimostra che c'è la massima attenzione per i nostri edifici scolastici, compresi quelli ovviamente sull'isola di Ischia. Quindi il liceo si rifà il look per dare dei servizi maggiori alla platea scolastica, intesa sia come studenti, personale docente e non docente. Le ha citato l'impermeabilizzazione, quindi per evitare il fenomeno delle infiltrazioni d'acqua, che era abbastanza presente. E noi abbiamo ascoltato anche la dirigente del liceo, la dottoressa Barbieri, che ringraziava la città metropolitana per l'impegno e sottolineava anche l'importanza dell'impianto di riscaldamento. Sembra una cosa dovuta, eppure invece bisogna lavorare anche per questo. Sì, ovviamente la scuola non è che era senza l'impegno di riscaldamento. Vi avevano i termoconvettori, ovviamente con l'impegno di riscaldamento c'è una maggiore efficienza, quindi verranno utilizzati i termoconvettori soltanto per rinfrescare l'aria nel periodo estivo. Inoltre ci saranno poi lavori per gli infissi e anche per migliorare la palestra. Sì, perché verrà rifatto il manto all'interno della palestra e anche gli infissi esterni saranno sostituiti. Si parlava anche di un campetto esternamente alla struttura? Sì, è previsto un campo di calcetto esterno, ovviamente sarà realizzato un campo sportivo polivalente, quindi sia per il calcetto che per altre attività sportive. Vice sindaco, c'è già un cronoprogramma per quanto riguarda l'inizio e la fine dei lavori? È stato sottoscritto il contratto, quindi a breve verrà aperto il cantiere materialmente e quindi nel giro di alcuni mesi, ovviamente perché sono dei lavori importanti che riguardano varie tipologie di intervento, quindi dall'impermeabilizzazione alle facciate, come poc'anzi detti, quindi saranno dei lavori che ovviamente non potranno terminare a strettissimo giro, l'importante però è che si inizino i lavori e vengono realizzati nel migliore dei modi.